Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing Oggi parleremo di chip proprietari Agnus, Denise, Paola, Ted Sono quattro chip proprietari Commodore famosissimi Due parole dovevo spendere su questi chip proprietari Che ebbero a rivoluzionare la circuiteria dei computer Prima dei chip custom Era il microprocessore che gestiva l'audio e il video Questo accadeva su Apple II, Apple II Plus, Apple II, Apple II C Commodore 64 già aveva un chip audio e video dedicati Non erano particolarmente potenti e rivoluzionari Le prestazioni in fin dei conti erano poco diverse dagli home computer Non dotati di chip custom Per quanto ci sia da dire che Commodore 64 con due chip custom Audio e video Poteva gestire sprite in automatico Mentre gli Apple II per gestire le sprite Ecco, si doveva lavorare molto molto di programmazione L'audio del Commodore 64 era decisamente superiore a quello degli Apple II Dato che Commodore 64 aveva quattro voci Mentre su Apple II per far smutare fuori delle note dalla piccolissima cassa C'era da lavorare tantissimo di programmazione Ritrovandosi praticamente la macchina bloccata La grande rivoluzione la portò alla piattaforma Amiga La piattaforma Amiga non fu però ingenerizzata da Commodore Ma comprata da Commodore Ci ho fatto un podcast al riguardo Quando la Commodore si comprò la Amiga Il link lo trovate in descrizione se volete espandere il tema Prima dell'arrivo della Amiga c'era già il chip TED Inventato dalla MOS Technology E posto sulla linea dei computer Commodore 264 Commodore 16, Commodore 116, Commodore Plus 4 Tutte e tre furono un enorme flop commerciale per Commodore Iniziamo dal chip TED che cronologicamente è il più anziano E fu il primo chip proprietario Commodore ad essere introdotto in modo plateale Il MOS TED è un microprocessore ad 8-bit Fu sviluppato da MOS Technology da usarsi come coprocessore Per la gestione della grafica e del suono Per sgravare il carico di lavoro e il microprocessore principale Il chip conteneva tutte le circuiterie per l'accesso dinamico alla memoria Per il controllo degli interrupt e la gestione delle periferie Linea di massima e capacità video del chip TED erano inferiori a quelle del MOS Technology DIC2 Quello per il Commodore 64 Detto che il chip TED non gestiva gli sprites Text mode con 40x25 caratteri in varie modalità di colori Multicolor Graphics risoluzione di 160x200 a 4 colori Iris Graphics grafica in alta risoluzione a 320x200 pixel a 2 colori su 121 disponibili Audio mode, generatore di toni a 2 canali ed era largamente inferiore al CD del Commodore 64 con 4 canali Chip TED sviluppato dalla MOS Technology, una società controllata e collegata da Commodore Ecco, ormai il chip era stato fatto e da qualcuno andava rifilato Per cui fu messo in vendita dentro la linea del Commodore 264 Se vi interessa il tema andate a vedere il podcast Resto la spospettiva Commodore Plus 4 Retrospettiva Commodore 16 contro Sinclair ZX Nel 1986 Commodore si comprò la miga e stupì il mondo con Agnus Chip Agnus era un DMA Direct Memory Access Controller Coordinava il funzionamento del pennello video Quanto dell'accesso alla RAM del 668000 e degli altri chip Agnus gestiva 25 canali DMA Poiché il coprocessore 68000 normalmente accedeva alla RAM ogni due cicli di clock Agnus effettuava gli accessi per il chipset solo durante i cicli dispari Lasciando quelli pari alla CPU che in questo modo non veniva rallentata Questa pacifica coesistenza era però messa in crisi Quando la modalità video era in alta risoluzione Le temporizzazioni di Agnus si misuravano in color clock di 280 nanosecondi Equivalenti a 2 pixel in bassa risoluzione, 140 nanosecondi E a 4 pixel in alta risoluzione, 70 nanosecondi Come per Denise, le temporizzazioni erano progettate per gli schermi delle tv domestiche Potevano essere sincronizzate ad una sorgente esterna di clock Blitter e Cooper erano due subcomponenti di Agnus Blitter era un'unità ad alto parallelismo in grado di effettuare trasferimenti di blocchi di memoria e operazioni logiche Cooper era una macchina stati finiti, programmabile che eseguiva un flusso di istruzioni sincronizzato con l'hardware video Denise Denise era il chip che eseguiva le temporizzazioni video misurate in color clock ma poteva sincronizzarsi anche con un segnale video esterno Denise era programmabile per prelevare dati da un certo numero di bitplane e tradurli in indici di una tavolozza di colori Il numero di bitplane e la risoluzione potevano essere cambiati al volo per esempio da Cooper questo consentiva un uso molto parsimonioso della RAM c'erano due risoluzioni grafiche bassa risoluzione a 140 ns con schermi da 320 pixel e alta risoluzione a 70 ns con schermi da 640 pixel Denise supportava Overscam Ampi risoluzione verticale era i 200 pixel in NTSC a 60 Hz oppure 256 pixel per PAL a 50 Hz la risoluzione verticale poteva essere raddoppiata tramite interlacciamento Denise poteva visualizzare 8 sprite sulla grafica e individuare le collisioni tra gli sprite e lo sfondo e tra gli sprite stessi questi sprite avevano tre colori visibili e uno trasparente ma era possibile legare insieme due sprite per ottenere uno sprite unico da 15 colori chip paula chip paula era usato per produrre segnali audio quattro canali audio PCM 8 bit in DMA due dei canali sonori erano miscelati nel canale audio sinistro gli altri due nel destro solo il formato supportato per i campioni era lineare ad 8 bit in completamento a 2 ogni canale audio aveva un volume e frequenza di campionamento indipendenti con alcuni truth key di programmazione era possibile riprodurre audio a 14 bit campionando due canali i cui volumi erano stati opportunamente settati si potevano così ottenere due canali a 14 bit invece che 4 canali ad 8 bit in uno schermo normale NTSC o PAL la riproduzione dell'audio era comunque però limitata a una frequenza di campionamento di 28.867 Hz per via della quantità di dati che potevano essere letti dalla memoria nel tempo riservato al chip paula miga conteneva poi un filtro analogico passo a basso che era esterno al chip paula il filtro da 12 decibel per ottava con frequenza di taglio di circa 3.3 kHz il filtro poteva essere applicato solo globalmente a tutti e quattro i canali ecco la commodore fece scuola praticamente a tutti a cominciare da apple la quale provò a rincorrere la miga con apple 2gs perché macintosh era troppo primordiale ed aveva un proprio mercato ormai nel desktop publishing dove l'audio non serviva ma i colori ecco ma i colori a macintosh sarebbero stati utili solo dal 1993 ossia dopo sette anni apple computer con i macintosh incominciò ad avvicinarsi alle performance multimediali di commodore amiga la strategia dei chip custom fu facilmente introitata con il tempo dal mondo pc dal 1994 con schede video ed audio dedicate sul bus isa e poi pca e poi agp tramite schede audio e video dedicate successivamente le schede audio furono inserite di serie nelle motherboard mentre per quanto riguarda le prestazioni grafiche il grosso rimane su schede video sempre più accelerata gp 1 2 3 eccetera questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima